I tuoi progetti? Che progetti posso avere? Il destino di Belmuth è vagare per la terra cercando rifugio dove può. Potrei andare al sud. Napoli? Vedi lei poi muori. Forse così semplice. Hai più scritto qualcosa? Una ballata sulla prigione. È quasi finita. E non è niente male. Oscar, scappiamo via. Dove nessuno può trovarci. Napoli, per l'appunto. Ragazzo mio, non sai cosa stai dicendo? Non fa a me, ordiniamo, santo Dio. Perché ci rintaniamo oltre la città nell'albergo della stazione? Bruxelles, quai numero 3 in qualche instante. Lovin, Dieppe, Calais e Ostend. Perché io sono un uomo rovinato. Se finissi con me a Napoli, il mondo per te sarebbe un quadro da ammirare e non toccare. Mi ami così tanto, Busy. Ad ogni modo, denaro non ne abbiamo. Ma che dice Dio? Oscar, mia madre ne ha una montagna. Cos'hai da ridere? Niente. Una cosa che ha detto Robby. Robby è contro di me da quando ci conosciamo. È... Corroso dalla gelosia. Robby mi ama, Busy. In un modo che non potresti mai capire. Aye. rati. Grazie.